Assalamualiko, in questo video, e si spera in questa serie, ho intenzione di condividere delle lezioni che derivano da un libro di storia globale che ho iniziato a leggere, molto interessante, che si chiama Le vie della seta, The Silk Roads, ed è scritto dal professor Franco Pan, che è un ricercatore senior all'Università di Oxford, appunto in storia globale, e questo libro è stato un bestseller, The Sunday Times, e personalmente è sempre stato un mio sogno, un mini sogno potremmo dire, quello di studiare la storia per trarne lezioni. Perché una delle frasi classiche che si dice è che la storia si ripete, e dunque l'essere umano alla fine è sempre quello, anche se la società cambia, dal punto di vista più interno, più intrinseco. E quindi imparare dalla storia significa anche avere la capacità di interpretare e prevedere quello che accade. Ora, non tanto imparare semplicemente fatti e capire come si è arrivati ad oggi, ma capire quelle tendenze, quei pattern che si ripetono e che richiedono più logica, invece che una semplice memorizzazione dei fatti, che di solito è quello che viene richiesto in ambito accademico. E quindi ho iniziato leggendo questo libro, il libro ha ricevuto un sacco di feedback positivi per quanto riguarda lo stile, il contenuto, e posso dire che effettivamente è così. È scritto molto bene e va proprio al nocciolo della questione, per chi vuole imparare la storia, imparare lezioni dalla storia, appunto. E volevo condividere, sono 25 capitoli, ho iniziato a leggere il primo capitolo, e penso che per la comunità musulmana, io parlo del musulmano, ma in generale per tutti in realtà, sia nel micro, cioè nella vita privata, magari nella vita lavorativa, ma anche nel macro, cioè dal punto di vista politico, e come vedremmo anche geopolitico, è molto interessante vedere che lezioni si possono trarre e se queste lezioni si possono applicare nella nostra vita di tutti i giorni. Questo è effettivamente quello che ho trovato finora, in questo primo capitolo, e l'idea è quella di fare una mini-serie, relativamente mini, perché i capitoli sono circa 25, quindi 25 episodi, man mano che leggerò questi capitoli, condividere, far sì che questi siano modo di iniziare una discussione interessante, e poi, diciamo, questo rappresenta, diciamo, il next step, il passo dopo rispetto ad altre serie in questo canale, YouTube, e poi la pagina Facebook, in cui, in generale, mi sono concentrato, ad esempio, su critiche testuali, religiose, critica dell'ateismo, del materialismo, ci sono video abbastanza pesanti su quello, sia nella pagina che nel canale, ecco, post, e poi nella pagina. Qui è importante, diciamo, tirare, diciamo, tirare avanti, ecco, andare oltre, e quindi usare la storia, per trarre le lezioni, e capire cosa si può fare dopo. Quindi, senza indugiare oltre, la prima lezione, ovviamente sono tante, cioè, in realtà, un po' come fanno gli studenti universitari, ho sottolineato molte righe, ma ho voluto mettere, diciamo, alcuni punti, sono quelli in blu, le sticche blu, in cui ci sono proprio quelle perle, quelle proprie lezioni, che non volevo perdere, che facilmente volevo, poi, in futuro, poter trovare, anche per utilizzare questo testo come strumento, non si sa mai. Quindi, la prima qual è? La prima lezione che Franco Pan condivide è quella di uno dei leader del regno di Zhao cinese, stiamo parlando di più di duemila anni fa, e questo leader è King Wu Ling, che, nel 307 a.C., disse che il talento per seguire le vie del passato non è sufficiente per migliorare il mondo di oggi. E questo, ovviamente, già è molto importante, perché, come dice Franco Pan, il progresso era essenziale. chi non avanzava, e non soltanto in tecnologia, ma in scienze, lingua, religione anche, filosofia, economia, anche militarmente, in tutti i settori, chi non avanza, chi non è al passo con i tempi, resta indietro e dunque perde. E in questo caso possiamo dire due cose, che dal punto di vista dei musulmani, questo l'abbiamo visto noi, in prima persona, diciamo, l'impero islamico con gli ottomani si è stagnato, talmente tanto che poi, diciamo, l'impero ottomano era chiamato l'uomo malato d'Europa, proprio per questo, no? Era una sorta di grande relitto che faceva paura soltanto per la sua storia, e invece, diciamo, un occidente che sviluppava sempre di più la sua scienza e la sua tecnologia ha poi scoperto che era tutta fuffa, in sostanza, e dall'altra, e l'altra lezione, più che lezione e particolarità, è che anche qui bisogna essere critici, non sempre l'innovazione più smodata è una cosa positiva, proprio perché sappiamo che, ad esempio, nell'istame il concetto di BIDA, dal punto di vista dottrinale, cioè di innovazione totale, non è un concetto positivo, è più positivo invece mantenere il messaggio come più puro, ma anche qui abbiamo una sorta di, fra virgolette, innovazione possibile che è quella, ad esempio, legata all'Ijtihad basata sul Coran e la Sunna, quindi la capacità di non reinterpretare, ma vedere cosa già i testi e le risorse primarie e secondarie hanno da offrire per quanto riguarda l'adattamento, ad esempio, dell'applicazione pratica, societaria, legata alla società della religione al contesto sociale, culturale e temporale e questo, leggendo i libri di Firk rappresenta un elemento primario che è uno degli elementi primari che è l'elemento di Urf. Quindi, in generale, è molto importante essere al passo con i tempi il più possibile, sia nel micro, come abbiamo detto, che nel macro. La seconda reazione, andando in fretta per non rendere il video troppo lungo, è legato al successo che ebbero i persiani, diciamo, stiamo parlando qui ovviamente sempre, siamo ancora nell'Avanti Cristo, l'impero persiano, e la particolarità, ci dice Frankopan, che avevano questi persiani, era quella di avere una burocrazia e un'amministrazione molto efficiente, gente molto preparata, e poi, ci dice Frankopan, una grande apertura. Nonostante i persiani fossero un impero, come tutti gli imperi del tempo, quindi l'obiettivo era conquistare e fagocitare il prossimo, loro non lo fagocitavano e basta. Quando avevano, quando vedevano delle usanze, dei costumi, delle peculiarità, magari dei vestiti, delle tecnologie, delle idee anche, positive, che loro, e questa è una cosa paradossale, un impero di solito è caratterizzato d'arroganza, invece qui loro avevano quella sorta di umiltà di dire questo lo vogliamo far nostro perché è migliore e quella è una sorta di umiltà, quasi anche arroganza, perché l'impero si arroga il diritto di dire adesso questo è mio, però in questo modo si crea effettivamente un'identità forte, sviluppata e quell'elemento positivo non è più limitato da quella cultura, ma è dipendente stavolta dall'intenzione della cultura propria e questo quindi è un elemento positivo per evitare lo stagnamento, ad esempio, di cui abbiamo parlato quindi essere aperti alle idee, farle proprie perché ci sono sempre cose positive in alcune idee soprattutto quelle che hanno successo e in un certo senso purificarle dalle cose negative e renderle proprie per quanto riguarda diciamo l'aspetto positivo. l'altro punto è legato all'Alessandro Magno e poi ci sono state molte lezioni ma una di queste e due di queste in realtà forse facciamo queste due perle insieme sono state il fatto che quando Alessandro Magno conquistò la Persia sconfisse Dario II Dario III gli dato una degna sepoltura quindi non si presentò in modo brutale ai locali una delle cose che fece fu quella di utilizzare le elite locali che già erano lì e mantenerle praticamente a fare la stessa funzione però stavolta sotto lo standard diciamo dell'impero di Alessandro ecco questa è una cosa molto positiva perché ha evitato che i locali sentissero una grande differenza e lo ha aiutato a non farsi dipingere come conquistatore ma come continuatore quasi di una tradizione che già c'è ed è lì e questo si mescolerà con altri punti che vedremo quindi tutti interconnessi legato all'impero romano e legato all'importanza del costruire identità e a sempre non svuotare il prossimo ad esempio nella Dawa ad esempio anche nel lavoro nell'industria della diffusione delle idee anche nella politica perché nella filosofia nell'imprenditoria anche utilizzare le risorse locali utilizzare anche persone che conoscono bene il contesto locale è importantissimo e aiuta ad evitare tutto il lavoro di ricerca che sennò prenderebbe troppe risorse e fra queste il tempo che è la più preziosa un'altra cosa che fece Alessandro nel suo poco tempo diciamo di regno perché morì giovane fu quella di fare un'espansione con difesa cioè cosa significa come vedremmo nella perla dopo una delle perle seguenti uno dei problemi dell'impero romano è stato proprio quello di aver avuto questa espansione forte militarmente ma un po' troppo quantitativa e poco qualitativa quello che invece fece Alessandro è stato quello di espandersi qualitativamente e quindi ogni volta che lui si espandeva creava praticamente una roccaforte che poi diventava una città fortificata che riusciva a difendere quei confini estremi dell'impero di Alessandro e questo in realtà possiamo applicarlo un po' tutte le idee se prendiamo l'esempio contemporaneo a riprovare che queste lezioni sono utili dei video virali il video virale in sostanza è una sorta di impero romano 3.0 versione digitale versione idea cioè quello che accade è che l'idea si espande molto in fretta con il video virale ma poi dopo un po' scema e non ha più quella presa diciamo sulle masse ecco mentre la strategia di Alessandro in questo caso che potremmo far nostra è quella di espandersi crescere sì anche dal punto di vista aziendale dal punto di vista di comunità io parlo sempre diciamo anche da musulmano dal punto di vista di comunità crescere svilupparsi qualitativamente e non soltanto quantitativamente e vedremo adesso perché uno dei problemi infatti che prima del problema prendiamo della cosa positiva gli Arsacidi furono una delle una delle dinastie diciamo dei governatori della Persia e quello che fecero fu una delle peculiarità per cui li ricorda Franco Pan fu quello di perché ricordiamo la Persia poi è stata conquistata dei greci e poi diciamo è ritornata un po' più indipendente dai greci e quindi si è creata questa sorta di dualità tensione fra identità greca e identità persiana quello che gli Arsaci di fecero fu quello di reinterpretare la storia Franco Pan di critica per questo ma è importante comunque quello che si è fatto rileggere la storia della Persia in chiave greco-persiana così che il greco non si sentisse vittima e prigioniero della tradizione persiana e viceversa il persiano non si sentisse vittima e prigioniero di quella greca in questo modo questi Arsaci hanno creato questa sorta di commistione una nuova identità che mantenesse gli elementi effettivamente persiani ma che fosse letta in chiave greco-persiana questo è molto importante perché ricordiamo ad esempio una delle interviste che Bocca al Dacre ha fatto di recente in merito al suo libro Goethe lei parla ad esempio di questo Islam occidentale ecco quello che magari è inteso non è una sorta di riformismo pieno di bidà e pieno di compromessi negativi no quello che sta dicendo è che è utile far capire che l'Islam non è legato alla cultura araba o alla cultura orientale ecco per usare un termine orientalista ecco ma è un sistema un'ideologia che può essere adattato nei limiti alla cultura e è importante presentare un'idea in questo caso ad esempio nel contesto della Dawa quest'idea dell'Islam o anche di altre in un'azienda quando ci sono cambiamenti dal punto di vista politico come continuità cioè quello che accade è che c'è questa lunga tradizione e questo popolo ha diciamo l'agenzia di decidere di crescere con questa nuova cosa e quindi l'identità appartiene agli altri perché ricordiamolo molto spesso l'interesse non è quello di togliere l'identità dagli altri ma è quello di vendere qualcosa che sia un prodotto un servizio un'idea quindi in questo caso diventa diciamo importante condividere ciò che si vuole vendere fra virgolette adattando dove possibile e conservando l'identità e l'anima diciamo del prossimo cosa altro abbiamo i Kushan in breve sono questo questo popolo nomade che fu cacciato dalla Cina e che controllando punti strategici che loro conoscevano molto bene nei mari di contatto commerciale fra l'Oriente e l'Occidente fra potremmo dire l'Asia e diciamo l'Europa fra virgolette ma in realtà non è tanto Europa abbiamo anche tutta la regione del Mena del tempo stiamo parlando ancora quindi diciamo sempre legato a questo periodo diciamo antico i Kushan controllando questi vie commerciali furono capaci di crescere da popolo nomade a mini impero e nessuno diede fastidio a questi Kushan proprio perché avevano bisogno di loro delle loro conoscenze del territorio locale delle correnti marittime poter arrivare al riparo ai porti e per questa conoscenza e per questa scelta di piazzamento molto strategica i Kushan divennero un mini impero quindi qui li cito solamente perché in realtà sono molto interessanti da capire ma si arricchirono un sacco perché ovviamente se loro erano piazzati al centro in un punto strategico di trasporto commerciale in un contesto macro in cui l'occidente e l'oriente erano da un lato una relazione di odio e amore da un lato scambi commerciali dall'altra parte guerre e desiderio di conquistare l'altro loro erano il terzo comodo non il terzo incomodo che permetteva di fare degli scambi più pacifici e di avere comunque guadagni e questo è importante perché sapersi piazzare in generale è anche importante ok abbiamo parlato quindi dei romani adesso è il momento di capire cosa hanno sbagliato loro hanno avuto un'espansione molto forte dal punto di vista militare ma in breve non sono riusciti una volta che l'espansione si è rallentata perché ovviamente diventava difficile andare a conquistare giganti come quelli della Cina e così via e quindi c'è adesso una situazione di stallo in cui era più importante adesso vedere chi è che aveva costruito più qualità in questa crescita diciamo blitz che Roma fece dopo la conquista dell'Egitto vediamo che effettivamente i romani non riuscivano più a controllare questi confini questi confini venivano a mano a mano mangiati dalle forze circostanti Roma da conquistatore iniziava a diventare obiettivo delle altre forze e diventava difficile per i romani continuare a sostenere questo peso militare questo gigante imperiale con le tasse che avevano e quindi poi c'è tutti i problemi che derivano cioè chiedere più tasse dai locali iniziare a fare il censo di tutti i prodotti di tutte le ricchezze e quant'altro quindi è importante quando si cresce crescere ancora una volta dal punto di vista qualitativo è assicurarsi che ogni checkpoint ogni punto chiave di crescita si costruisca una sorta di roccaforte alessandrina e che non si cresca molto in fretta senza diciamo stabilizzare ognuno di checkpoint perché quelle conquiste dal punto di vista di idea o del business o politico diciamo è una tendenza naturale quello di non volerle perdere e questo si fa con un lavoro qualitativo di diciamo tale che le radici siano forti ecco in questo processo di crescita e non soltanto i rami alti e infatti come dice Franco Pan Rome diventò una classica vittima del suo successo adesso era diventato un obiettivo per gli altri che vivevano nei suoi confini traducendo un po' così in inglese infine la costruzione di Costantinopoli che fu fatta dall'imperatore Costantino fu fatta proprio nel contesto romano nel contesto soprattutto di una Roma di un impero romano che era debole stava iniziando a diventare come un po' come l'uomo malato d'Europa un po' come l'impero ottomano il nuovo impeto fu dato da questo leader l'imperatore Costantino che non solo riuscì a presentarsi come leader ma riuscì anche a avere un'idea geniale non quella soltanto di riunire la leadership ma quella di costruire una nuova città quella di costruire una nuova città in un punto geopolitico ed economico chiave cioè di costruire praticamente Costantinopoli cioè nel punto chiave in cui Europa e Asia si incontrano nel punto chiave in cui tutti gli scambi commerciali di idee eccetera avvengono e in questo modo nasce diciamo questa perla diciamo la capitale si sposta stiamo parlando del quarto secolo dopo Cristo e Costantinopoli diventa la perla e il gigante diciamo ormai praticamente plurimillenario ecco siamo già no 1600 anni circa dopo quindi millenario questo gigante millenario che oggi viene chiamato Istanbul e che è della Turchia ma che comunque ha continuato da tempi di Costantino a produrre ad essere veramente un luogo importante e la lezione qual è che spesso bisogna fare un cambiamento radicale in questo caso è stato quello di cambiare capitale e di spostare la propria attenzione le proprie risorse e verso in questo caso verso l'oriente da parte dell'impero romano verso il commercio e quindi cambiare proprio strategia dove necessario e questa città effettivamente ha fatto se ci facciamo caso quello che ha eseguito in un certo senso la strategia alessandrina che l'impero romano non ha fatto prima quindi vediamo che ancora una volta c'è una regolarità un pattern una cosa che si ripete quindi alessandro la fece prima durante la sua vita costantino e quindi l'impero romano lo fece dopo ma comunque ci fu questa fase e fu una fase che effettivamente permise all'impero romano di vivere poi molto più a lungo ci sono altre lezioni ovviamente in questo capitolo ma il video si è già prolungato e quindi ci vediamo in charla al prossimo episodio alla prossima puntata magari se avremmo del tempo anche riprendendo alcuni dei punti chiave che abbiamo magari tralasciato e ci vorrà comunque del tempo quindi ci sta che il video è lungo perché ci vorrà del tempo prima che riesca un po' analizzare questo secondo capitolo che adesso andrà a vedere un po' la storia la prima storia del cristianesimo e la crescita con questo vi saluto spero che sia stato positivo penso che ci siano molti elementi il libro le referenze dunque le ho già condivise e con questo vi auguro vi saluto con la guida di pace dell'Islam essere monico e ricordatevi di iscrivervi e supportare diciamo questa sorta di iniziativa che è un po' di daome e anche un po' dare la voce ai musulmani sia su youtube o un canale su youtube coranicamente e poi il canale facebook e con questo vi saluto grazie a tutti